Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove ASICS FUJILITE 4, una scarpa completamente diversa dal modello 3, di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa per queste FUJILITE 4. Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola ASICS GRIP con un tassello da 3 mm. Nell'intersuola abbiamo l'FF BLAST, un drop da 4 mm, tomaia in mesh e il tutto per un peso di 266 grammi nella taglia 42 uomo. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica, iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola per queste FUJILITE 4. Come vi dicevo troviamo una suola ASICS GRIP, suola che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, una suola che ha un ottimo grip, infatti se tutto quello che è roccia, roccia bagnata non ha nessun problema, suola che in questo caso non ha una tassellatura così aggressiva da renderla adatta al fango. Vi assicuro che utilizzata questa scarpa sul fango si pattina parecchio, non è sicuramente una scarpa da utilizzare in caso ci sia pioggia. Poi per tutto quello che invece riguarda fondovalle, sentieri singletrack eccetera non ha nessun problema. Diciamo che, a mio parere, è una scarpa da utilizzare soprattutto nelle giornate soleggiate in cui siamo sicuri di non trovare terreni bagnati. Continuiamo, passiamo a parlare dell'intersuola. Come vi dicevo l'FF Blast, non la versione Plus, ovvero quell'intersuola che ha davvero un ottimo bilanciamento tra ammortizzazione e reattività. Per quanto riguarda l'ammortizzazione, beh, innanzitutto abbiamo una scarpa che nel tallone è alta 33 mm, quindi ne abbiamo di materiale che ammortizza. Quindi è una scarpa che tendenzialmente potremmo farci anche delle corse abbastanza lunghe. Per quanto riguarda la reattività, vi assicuro, io ci ho corso tranquillamente a 4 km e la scarpa viaggia. Viaggia parecchio, anche grazie al suo peso leggero, quindi devo dire che è una scarpa veramente molto bilanciata. Continuiamo, arriviamo a parlare della parte superiore della tomaia, iniziando dal puntale. Qui troviamo un puntale veramente molto morbido. Molto morbido vuol dire che se dovessimo prendere dentro qualche roccia, qualche radice, fidatevi la botta, la sentiamo e sentiamo male alla punta dei piedi. Non è un puntale che ci protegge dagli urti. E non ha nemmeno una protezione in tutta la parte laterale, che se dovessimo strusciare contro qualche roccia, qualche radice, sentiremo anche lì dolore. La tomaia in sé è in mesh, devo dire che è veramente molto traspirante. Io l'ho utilizzata in questo mese di settembre principalmente e davvero è una tomaia molto molto traspirante. Per quanto riguarda invece poi la costruzione in sé della tomaia, è una tomaia che secondo me, se utilizzata su terreni semplici, non darà problemi. Se dovessimo iniziare a utilizzarla su terreni un pochino più sconnessi, potrebbe andare a tagliarsi perché è abbastanza sottile. Continuiamo, arriviamo a parlare del tallone. Innanzitutto un tallone molto strutturato, un tallone che svolge ottimamente il suo compito di tenere fermo il piede. Un tallone che, complice anche l'altezza della scarpa, tende un attimo a far svirgolare su dei sentieri un pochino più tecnici, dove abbiamo qualche roccetta, magari in discesa, cose così. Una scarpa sicuramente poi lo vedremo più pensata per un terreno facile rispetto a un terreno un pochino tecnico. Per quanto riguarda invece l'imbottitura, nulla a dire, è fatta veramente bene, anche quando corriamo col piede di traverso non abbiamo dolore, quindi da questo punto di vista è fatto molto bene. Lacci e linguetta, linguetta classicissima, svolge ottimamente il proprio lavoro, resta ferma, isola la pressione dei lacci. Lacci che sono fatti in un materiale un po' particolare, un tessuto un po' particolare, un pochino rigidino, che però vi assicuro fa sì che quando andiamo a serrare la scarpa, il piede all'interno resti veramente molto fermo, una calzata molto fasciante, e che i lacci comunque non si vadano ad aprire. Quindi devo dire, questi lacci mi hanno particolarmente sorpreso. Per quanto riguarda la soletta interna, questa è classica di ASICS. Io mi ci sono trovato bene, come per il resto delle altre solette di ASICS. Devo dire che andremo avanti tranquillamente a utilizzarla, anche se volendo è estraibile e sostituibile. Per quanto riguarda lo spazio di queste Fujilite sull'avampiede, devo dire che di spazio non ce n'è tantissimo. È sicuramente una scarpa con, diciamo, un fush shape abbastanza normale, tendente magari un pochino più allo stretto. È una scarpa in cui sicuramente se avete un piede largo dovrete optare almeno per mezzo numero in più. Detto ciò, arriviamo a capire innanzitutto a chi consiglio queste Fujilite. Secondo me possono andare bene un po' a chiunque. È una scarpa fatta bene, è una scarpa che ha un'ottima amortizzazione, un'ottima reattività. Secondo me il grosso spartiacque è il terreno da utilizzarla. Questa scarpa ve la consiglio su terreni facili, strade di fondo valle, single track molto battuti. Per intenderci, giusto per farvi un esempio di qualche gara, mi viene in mente una Chianti Ultra Trail, una Tuscany Crossing, comunque delle gare che vengono corse su dei terreni, magari anche a mezza quota, dove però corriamo su un single track molto battuto, dove non abbiamo roccette, dove non avremo problemi di trovare anche delle radici esposte o del terreno particolarmente tecnico. A livello di distanza, io ci farei tranquillamente anche delle gare da 70-80 km senza nessun problema, avrei comunque di ammortizzazione, ce n'è. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per queste Fujilite 4. Iniziamo dal prezzo, vengono vendute da ASICS a 140€ sul loro sito ufficiale, o da lei si trova già sui 100€. Devo dire un ottimo prezzo, perché comunque ottime tecnologie, tendenzialmente oggi come oggi i prezzi si sono alzati, e trovare una scarpa a 100€ è veramente molto molto difficile. Davvero, devo dire, un'ottima calzatura per chi vuol fare tanto collinare e per chi corre su terreni veramente molto semplici. E detto ciò, ragazzi, io ho una speranza di essere stato esaurito il tuo Stivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!